Tutti i lavoratori dei call center che lavorano sulla commessa IMS dell'Aquila assieme ai lavoratori di tutte le sedi di Comdata e Network Contact hanno incrociato le braccia per lo sciopero nazionale dopo che l'IMS ha annunciato di voler internalizzare il servizio clienti. Per l'istituto non è applicabile la clausola sociale ma dipendenti e sindacati non ci stanno. Poco rassicurante il percorso di costruzione del bando della selezione che dovrebbe portare all'internalizzazione. Non c'è la ben che minima certezza sugli strumenti che garantirebbero che i selezionati saranno le lavoratrici e lavoratori attualmente impegnati sulla commessa. Elusive anche le risposte sulle garanzie delle condizioni economiche ma la parte più preoccupante riguarda i numeri. Il presidente Tridico ha affermato che l'operazione riguarderà circa 3.000 persone a fronte delle 3.300 attualmente impiegate sulla commessa. I lavoratori sono 500 e il rischio è di perdere il posto di lavoro perché giustamente se l'IMS continua con l'idea di fare il bando pubblico i lavoratori non sono tutelati quindi c'è il rischio che 500 lavoratori restino a casa. Noi chiediamo due cose. La prima cosa che chiediamo è innanzitutto l'applicazione dell'unica legge che legittima il mantenimento dei posti quindi di lavoro e la 11 2016 chiama cosiddetta clausola sociale. La seconda cosa chiediamo interventi mirati, interventi pesanti della politica che ci sostenga appunto a questa situazione e faccia in modo da cambiare l'articolo 5 bis della 101 che permette appunto l'utilizzo della clausola sociale che garantirebbe il perimetro occupazionale e economico dei lavoratori attuali. Il territorio aquilano e in particolar modo la città di L'Aquila non può permettersi di perdere nemmeno un posto di lavoro quindi noi quello che chiediamo è l'applicazione totale della clausola sociale, è una legge del 2016 la quale garantisce questo il perimetro occupazionale di tutti i lavoratori, garantisce i diritti dei lavoratori e soprattutto garantisce lo stipendio che i lavoratori hanno maturato in tutti questi anni che hanno lavorato sulla commessa Ips. A sostenere la battaglia di lavoratori e sindacalisti anche molti politici di destra e sinistra e il sindaco per Luigi Biondi che ha portato la solidarietà del comune. Il ministro Orlando e Tridico ha detto Biondi devono sedersi a un tavolo e trovare una soluzione perché si può fare. Nel dossier che il sindaco darà al premier Draghi domani e al ministro Carfagna è stata inserita anche questa questione.